Ben ritrovati. Dedicheremo la puntata di oggi a rispondere alle domande più frequenti delle vostre email, che sono essenzialmente riguardanti come eliminare il dolore dentale da un dente compromesso da una carie profonda e come sostituire gli elementi dentali che mancano all'interno della cavità orale. Allora, quando una carie è molto distruenta sul dente e va oltre quelli che sono i limiti della dentina e dello smalto, la carie compromette l'attività della polpa dentale. Il dente va considerato come un barattolo all'interno del quale esiste determinazioni vascolari e nervose. Quando la polpa del dente viene compromessa e quindi la carie la irrita, generalmente il dente va devitalizzato. Il termine devitalizzazione comporta due fasi. Prima di tutto il dente va depulpato, quindi tolto quello che all'interno del canale della camera pulpare è il tessuto morbido, quindi la polpa con il nervo stesso. Successivamente, tramite dei piccoli processi di lavorazione, che sono la ripulitura del canale, la ripulitura della camera polparia, il dente va sterilizzato, disinfettato e poi a nostra volta chiuso con dei materiali specifici che ne permettono il mantenimento nel tempo. Chiaramente questa procedura comporta diverso tempo, in quanto può essere fatta con più di una tecnica. Esistono tecniche di allesatura manuali, tecniche di allesatura meccaniche e addirittura sterilizzazioni che possono essere fatte non soltanto con i prodotti specifici, ma addirittura un pochettino più profonde sotto microscopio con il laser. Un dente, quando ha un singolo canale, tipo gli incisivi centrali inferiori o superiori o i premolari, si può arrivare a devitalizzarle anche in una sola seduta, in quanto i canali risultano essere abbastanza grossi e di facile accesso. Per quanto riguarda invece i denti posteriori, che sono quelli più soggetti alla devitalizzazione, anche perché sono i veri denti masticanti all'interno della bocca, ci troviamo un pochettino più in difficoltà. Prima di tutto perché abbiamo camere polpari più ampie e non abbiamo singoli canali, ma abbiamo due o tre canali, dipende dalle quantità delle artici che ritroviamo nel dente. Addirittura esistono denti che hanno forme particolari con quattro canali più piccoli canalini laterali. Qui la lavorazione è un pochettino più lunga, in quanto ogni canale va trattato a sé stante e quindi ci vogliono più sedute per poter risolvere definitivamente il problema. La cosa importante nella devitalizzazione dentale risulta essere la chiusura apicale, cioè il canale dopo essere ben deterso e ben preparato è molto importante come rifinitura che sia chiuso con materiali specifici tipo la gutta perca fino al suo apice, in quanto se lo lasciamo l'apice non chiuso, beante o maltrattato, può creare successivamente nel tempo delle rarefazioni ossee che possono essere di tipo cistico, granulomatoso e quindi dopo il dente va riaperto per un successivo ritrattamento per poter apportare una guarigione anche al problema osseo che siamo andati a creare con una cattiva devitalizzazione. Da qui possiamo passare tranquillamente a quelli che sono i metodi per poter rimettere questi denti nella bocca quando mancano più elementi dentali. Questo perché è da tenere in considerazione che i denti quando vengono devitalizzati cominciano ad avere una minor resistenza all'interno della bocca, quindi essendo denti secchi possono essere soggetti a frattura durante la masticazione. È il motivo per il quale questi denti una volta trattati andrebbero ricoperti protesicamente, quindi utilizzando delle corone o delle protesi fisse che comportano al dente, mi scusi, nel tempo una durata più vasta. Allora i tipi di protesi all'interno della bocca, come voi mi richiedete nelle domande, sono di diverse metodologie. Possono essere elementi fissi che si possono mettere sotto forma singola o a ponte utilizzando impianti o elementi dentali propri, oppure protesi parzialmente removibili che constano di una parte fissa e di una parte removibile dalla bocca, quindi una rimane all'interno della bocca e una viene tolta per la normale detersione con degli spazzolini e poi possono essere protesi che sono totalmente mobili, che possono essere sia inferiori che superiori. Allora per quanto riguarda gli elementi fissi esistono diverse tecniche di esecuzione, diversi materiali a cui si può andare incontro per poter realizzare questi manufatti. Generalmente i più conosciuti sono le metalloceramiche, ma oggigiorno possiamo andare anche avanti con le tecniche e utilizzare gli elementi in zirconia oppure gli elementi in disilicato di litio. La differenza tra i singoli elementi da volte non è soltanto il costo ma anche il tipo di risultato estetico. Quando un elemento comincia ad avere menor metallo all'interno e quindi liberi di metallo ma costruiti senza dei sostegni, hanno una rinfrangenza con la luce più bella e quindi anche il risultato estetico è migliore. Sono più indicati a volte sugli incisivi perché sono i denti del sorriso, ma possono essere utilizzati senza nessun problema ma anche per i denti posteriori. Una protesi fissa, come stavo spiegando inizialmente, può essere applicata sia utilizzando i denti rimanenti all'interno della bocca, quindi facendo delle travate di ponte, utilizzando i nostri denti sotto una preparazione particolare che può aspettare l'elemento. Oppure possono essere rimetti al di sopra dei perni di implantari che vengono messi nei punti in cui la bocca è stata privata degli elementi dentari o dalla natura del dentista stesso. Per quanto riguarda invece la protesi parzialmente rimovibile esistono diverse metodiche. La più semplice è sicuramente la protesi scheletrata con i ganci. Il dentista in questo caso esegue la riparazione dei denti mancanti all'interno della bocca utilizzando delle semplici impronte lasciando inalterati i denti rimanenti, quindi vengono sostituiti con degli apparecchi in metallo che sostengono i nostri denti, che possono essere montati tranquillamente in resina o in ceramica, vengono applicati con questi scheletrati all'interno della bocca e un paziente può condurre una vita masticatoria normale perché sono perfettamente adatti a tutte le situazioni in cui le mancanze dentali inibiscono il normale funzione masticatoria. Chiaramente una protesi di questo tipo comporta dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio più grosso è sicuramente il costo e la velocità di esecuzione perché in pochissimo tempo e veramente con una spesa abbastanza irrisoria può essere ripristinato con una certa velocità la mancanza dentale. Per quanto riguarda gli svantaggi sono però il fatto che è pur sempre una protesi removibile e questa protesi removibile può dare adito a grandi quantità di salivazione all'interno della bocca e le mucose stesse non sempre si adeguano ad avere una protesi di questo tipo. A volte possono essere anche maltrattate dalla protesi stessa durante il tempo e subire dei decubiti facilmente risolvibili ma pur sempre fastidiosi. Queste protesi scheletrate in verità esistono di due tipi cioè si possono in qualche maniera utilizzare sia con dei semplici ganci che rimangono però a vista sui denti rimanenti quindi esteticamente possono avere un effetto non troppo gradito ma si possono utilizzare a loro volta anche con scheletri un pochettino più sofisticati che si chiamano fresati e possono essere inseriti sopra delle corone in ceramica che privano la bocca di questi brutti ganci che possono essere antistetici. La protesi mobile è una protesi abbastanza conosciuta dalle persone di una certa età perché prevalentemente quando si passa alla avulsione dei denti nel tempo si perdono anche gli altri se non si rimettono con una certa velocità e quindi le persone più anziane o quelle che probabilmente hanno avuto dei traumi in bocca privandosi di osso o di elementi dentali che la natura ci ha dotato passano alle protesi mobili le protesi mobili possono essere come ho precisato sia inferiori che superiori allora la protesi mobile superiore è sicuramente la più facile da eseguire da un punto di vista pratico perché al di sopra della bocca noi abbiamo il palato quindi abbiamo una quantità di osso e di mucosa ampia che permette alle nostre protesi di avere una grande capacità di appoggio e quindi può essere sorretta più facilmente anche se a volte non risulta essere troppo precisa da tutto questo sostegno che la bocca gli può dare utilizzando anche a volte degli adesivi quella inferiore invece un pochettino più rognosa per il semplice motivo che abbiamo la lingua nel mezzo quindi questi ferri di cavallo che vengono messi in bocca con i denti montati non sempre trovano una quantità di adesione all'interno dell'osso delle mucose tale da dare un sostegno di stabilizzazione ecco perché sia il superiore che l'inferiore delle protesi mobili possono essere agganciate alla bocca non soltanto con adesivi o con tecniche di suggello all'intorno della protesi particolari ma possono essere usati protesi e impianti insieme per poterne permettere in qualche maniore o una maggiore stabilità in particolare per l'inferiore quindi con due piccoli impianti inferiori si possono stabilizzare le protesi inferiori e con un impianto perlato dei superiori possiamo stabilizzare le protesi superiori eliminando il palato che a volte in alcuni pazienti dà dei fastidi non soltanto per quanto riguarda la stabilità o la deglutizione ma anche per il sapore dei cibi perché essendo una quantità di materiale protesico denominato lucitone che occupa una buona parte della bocca si riducono anche i sapori del cibo all'interno della cavità bene per oggi è tutto ringrazio per l'attenzione buona giornata